Io sai, adesso ti faccio vedere io se sto pulendo, pulisco perché è molto meglio perché ha visto com'era sport, era molto sport. Quando diceva puttana vecchia stronza lei alludeva a sua moglie, vero? Come ha fatto a indovinare? Io tutti i giorni, tutti i giorni all'entrata è l'uscita, lui dice a sua moglie vecchia stronza e puttana, puttana. Lei gioca a stecca? Io, io sì. Sabato sera a casa mia, tutti! Sì, è un bel direttore! È un santo direttore! È un santo direttore! Sì, una meravigliosa persona! È un santo! È un costolo! È viva il nostro direttore! È viva! È un santo direttore! È un santo direttore! Bene, 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 bene. Ah, è un santo direttore! Diamante Breccia! salts bel